Sarebbero 12 i medici tra gli ospedali di Salerno e Cava dei Tirreni indagati per la morte della piccola Ludovica deceduta sabato scorso a Ruggi di Salerno dopo un disperato intervento chirurgico. La bambina, come hanno raccontato i suoi familiari, in particolare lo zio Ciro Marino, è arrivata all'ospedale Santa Meglia dell'Olmo di Cava dei Tirreni alle 23 di venerdì sera con vomito. Alle 11 del giorno successivo i medici le hanno diagnosticato una gastroenterite, ma intorno alle 13.45 la mamma della piccola ha notato che la pancia e l'addome di Ludovica si erano gonfiati in maniera strana. A quel punto, come ci ha riferito sempre lo zio Ciro Marino, la donna ha chiesto l'intervento dei medici che avrebbero visitato la bambina soltanto alle 15.30, da cui la decisione di farle una radiografia e solo alle 18 è stato deciso di trasferirla all'ospedale di Salerno, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, ma non c'è stato più nulla da fare. Intanto l'inchiesta aperta dalla procura della Repubblica di Salerno va avanti in attesa dell'autopsia che sarà effettuata non prima di giovedì prossimo. La direzione generale dell'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno, nell'esprimere la più sentita vicinanza alla famiglia della piccola Ludovica, ha fatto sapere di aver avviato una verifica sulle motivazioni di una morte che, si legge della nota, vista l'età della piccola paziente coinvolta, colpisce tutti. È per questa ragione che la direzione generale del Ruggi, nel pieno rispetto delle prerogative che competono alla magistratura e alle forze dell'ordine, ha inteso istituire ad ORAS una commissione interna di indagine per ricostruire l'iter sanitario e medico che ha interessato la piccola Ludovica e definire eventuali responsabilità. Ai membri dell'organismo di accertamento è stato espressamente richiesto di agire con la massima celerità e con il dovuto rigore.